Allora ragazzi c'è un momento di panico, stavamo in grazia di Dio nella villa e Evelyn, fatti vedere, ha deciso che voleva vedere il tempio con le scigne, ma all'ingresso ci han detto che sono aggressivissime, non si possono guardare negli occhi, levare collane, foulard, braccialetti, accessori, gioielli, cappelli, praticamente bisogna entrare nudi e se ti graffiano bisogna andare in ospedale. Io dico ma perché uno deve entrare no? Comunque adesso vi tengo a guardare. Sì perché la mamma è incosciente. L'animale mangia queste bacche più papaya e banana e poi fa questa cacca che è proprio la sua, che è bellina, sembrano tipo dei cioccolatini con le noccioline. Viene lavata la sua cacca e si ottengono queste che sembrano noccioline. Queste noccioline vengono pelate perché c'è una pelle, vedete questa, begiolina, che viene tolta e poi si ottengono, vedete, ecco qua, si ottengono questi semi. Io dico ma perché uno deve entrare no? Prima la sapere e la scina, poi il caffè e la cacca.